Sei in ORECA Training, il format di ORECA Channel Italia dedicato alla formazione nel mondo della ristorazione, dell'hospitality e della distribuzione food and beverage. In quest'ultima puntata Nicoletta Pogliotto, brand strategist e autore di Creative Restaurant Branding, ci svela le sette regole d'oro del digital food marketing. Recupera la prima parte del corso dal link in descrizione. Buona visione! Giunti in chiusura proprio del nostro percorso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo un po' sintetizzare, cercare di trovare gli ultimi consigli, qualche suggerimento, take away da portarci a casa e da applicare poi nel nostro locale, nella nostra attività. Oltre a tutti i spero abbastanza saggi consigli che abbiamo dato sinora. Il titolo di oggi è sette regole d'oro. Partiamo quindi ad analizzare questi sette punti. La prima regola d'oro è che non esistono regole d'oro, ossia che, dobbiamo sempre ricordarci, esistono delle buone pratiche, buone pratiche che sono valide perché consolidate da esperienza, da statistica, che ci dice che, dai dati, dalle ricerche, no? Quindi ci dice che queste pratiche funzionano, hanno portato dei buoni risultati. Vediamo e leggiamo anche dei casi di studio, no? Dei casi di eccellenza che hanno applicato quelle strategie per capire meglio come funzionano. Quindi le buone pratiche ci sono. Poi devono anche essere poi prese e applicate, calate nel contesto della vostra realtà, del vostro territorio, del vostro mercato, dei vostri clienti, delle vostre esigenze. Quindi questo momento di personalizzazione è estremamente importante. Come si ottiene questa personalizzazione? Facendo un grandissimo lavoro sull'identità. L'identità di marca. Troverete questa cosa che si chiama brand, diciamo queste tecniche di cui molti raccontano, che si chiama appunto tecniche di brand identity. In italiano definibile identità di marca. Che cos'è la marca? È il vostro, la vostra anima, è il vostro DNA, quindi il cuore della vostra impresa. È quello che è, sottende lo scheletro che sostiene tutto il corpo del vostro locale. Quindi la vostra storia, la vostra filosofia, le vostre persone, il vostro stile, la vostra personalità. Lavorate molto su questo. Conosci te stesso per capire cosa puoi fare per gli altri, cosa puoi fare per il mondo, come puoi quindi offrire meglio la tua proposta e i tuoi servizi. Allora, la seconda regola d'oro è siate coerenti. Che cos'è la coerenza? È essere sempre uguali a noi stessi, anche se ogni giorno noi cambiamo, ogni giorno noi cresciamo, miglioriamo, cioè sempre ci relazioniamo con persone diverse, quindi relazionandoci con persone diverse si crea un'empatia e ovviamente la nostra attività, il nostro servizio un pochino si modifica, un pochino cambia, cresce, si evolve. Ma noi dobbiamo sempre rimanere noi stessi. Come si raggiunge questo obiettivo? Cercando anche qua di pianificare, di progettare con cura la nostra attività e la nostra presenza. Dobbiamo essere coerenti, quindi cosa significa? Che dobbiamo lavorare molto bene quando abbiamo capito la nostra identità? Sugli strumenti, sui modi, sui linguaggi da usare. Quindi il linguaggio visuale, come scattiamo la foto, quali colori scegliamo, quale linee scegliamo nel comunicare, qual è il nostro interior design, il nostro logo che deve essere coerentemente presente in tutti gli strumenti, in tutti i contesti in cui noi ci interrelazioniamo con il nostro pubblico, ok? Quindi la coerenza è fondamentale. Creiamo degli strumenti che siano allineati. Quindi anche qua svolgiamo il lavoro di creazione, che ne so, dell'insegna, dell'interior, del menu, del sito web con grande professionalità e avvalendoci della collaborazione di grandi professionisti che siano specializzati in quello, come voi siete specializzati nell'arte dell'accoglienza e del costruire progetti e percorsi di enogastronomici, quindi percorsi del gusto, di grande valore. Quindi la coerenza innanzitutto. Non raccontiamoci qui con un colore, là con un font, là con uno stile di linguaggio completamente diverso. La strategia. Abbiamo già usato questo termine in tanti contesti, in tanti modi e in tante puntate, però veramente ritorniamo su questo aspetto. La strategia cosa significa? Non che dovete mortificare la vostra creatività, ma emortificare la vostra fantasia. È una delle eccellenze italiane, ma non deve essere una scusa per vivere alla giornata, per improvvisare, per navigare a lista. Proprio nei momenti più complessi che noi stiamo attraversando, di crisi sanitaria, economica, ambientale, noi dobbiamo veramente progettare e pianificare con grande attenzione, con grande cura, con grande efficacia. Quindi, attenzione, scrivere, raggiungere gli obiettivi, i modi per raggiungerli, gli strumenti da utilizzare, ma poi testare, monitorare, tenere il polso dei risultati ottenuti. Se qualcosa non va, dobbiamo applicare delle modifiche, applicare dei cambiamenti, cambiare strada. Quindi, no improvvisazione, sì pianificazione. Importante è scegliere bene gli strumenti. Quindi, partite da una dotazione di base molto semplice, molto essenziale. Non vogliate a tutti i costi essere presenti ovunque, su tutti i social, incondizionatamente. Fate delle scelte strategiche. Scegliete la dotazione base, quindi sito web, le schede locali e un paio di social che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, quindi Facebook, Instagram. Valutate TikTok, perché adesso è anche un momento in cui TikTok è un po' in crisi per varie ragioni, soprattutto legate alla privacy. Quindi, comunque, lavorate bene su questi aspetti e scegliete bene i vostri strumenti. Quando avete consolidato la vostra presenza lì e verificate che i vostri ospiti o i futuri clienti sono anche in altri luoghi o vi cercano anche attraverso gli altri canali, cominciate gradualmente a conoscere e a strutturare strategicamente la presenza su questi altri canali. Ma fate step by step, piccoli passi. La parola d'ordine è digitale. Attenzione, il digitale abbiamo visto è essenziale per comunicare. Digitale ormai è un pochino tutto, non soltanto il sito web o la presenza su alcune piattaforme, è mobile, è social, sono le app. Quindi è un mondo più globale che abbraccia, diciamo, riempendoci di opportunità, abbraccia proprio la nostra vita e la vita dei nostri ospiti. Quindi, attenzione, il digitale non è solo poi la comunicazione e la relazione, ma anche il management, cioè è la gestione. Dobbiamo anche trovare degli strumenti che ci aiutino, ci aiutino a, per esempio, il menu digitale, a raccontarci, a far scegliere i nostri piatti, dobbiamo scegliere degli strumenti di management che ci aiutino a gestire e lavorare meglio il workflow, il flusso del lavoro nella nostra elaborazione, degli strumenti che ci aiutino con il food cost, con il controllo di gestione, che ci aiutino a creare, per esempio, un database di clienti. Quindi dobbiamo scegliere dei buoni strumenti. Questo è assolutamente essenziale. Monitorare i risultati. Ricordiamocelo sempre. Quindi trovare degli strumenti o dei parametri, degli indici che ci dicano questo strumento è servito perché abbiamo raggiunto in tot tempo questo obiettivo. Quindi attenzione poi a controllare i risultati. È un lavoro in più, ma è fondamentale. Posso fare tutto da solo? Non è detto. Posso fare con le persone che ho in casa? Se sono formate sì, però trovare un consulente di riferimento è e diventa determinante, soprattutto qualcuno non tuttologo, ma qualcuno che abbia un forte approccio strategico, una forte visione di marketing, che non sappia solo costruire quello strumento, ma che vi sappia accompagnare per mano, perché voi siete i protagonisti, verso il vostro successo. Perché voi siete unici, irripetibili, avrete una grande opportunità di diventare memorabili e di raggiungere il vostro successo. Cosa che vi auguro e per la quale vi invito a seguire appunto i nostri consigli e le nostre puntate. Ciao a tutti e grazie anche a ORECA Channel Italia. Ciao! Lascia un like per supportare questo progetto e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti in arrivo. Grazie!